Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34 Il futuro alle calcagne Lo scoraggiamento tende ad ingrandire gli ostacoli veri e quelli immaginari. La preoccupazione per i nostri reali bisogni umani ci porta talvolta ad aggiungere quelli futuri, in modo tale da crearci ansia per ciò che non possiamo gestire. Gesù ci ha ricordato una realtà scontata, eppure troppo spesso trascurata. Il futuro è davanti a noi, non dietro di noi per rincorrerci col fiato sul collo. Impariamo dunque a guardare al domani, non come ad una scadenza inelluttabile e gravosa, ma come ad un'opportunità, attraverso la quale il Signore potrà ancora operare per conservarci nella sua pace e nella sua benedizione. Il problema fondamentale sta nella mancanza di fiducia in Dio, cioè nel credere che Egli ha cura del nostro intero essere e non unicamente della nostra sfera fisica. Avvertiamo le incombenze premordiali oltremodo pressanti, perché non ci preoccupiamo nella giusta misura e maniera delle urgenti e vitali necessità spirituali. E' questa oggi la tua condizione? Non affannarti ad avere il controllo del futuro, resterai nell'ansietà. Metti piuttosto la tua vita sotto il controllo di Dio. Affidagli non soltanto qualche peso, ma tutto te stesso con il tuo futuro e la tua sorte eterna. Affidagli non soltanto qualche peso,